Peter Lynch diceva sappi cosa possiedi e perché lo possiedi bisognerebbe avere sempre una buona ragione per acquistare un'azione bene oggi ti dirò le mie tre azioni su cui io personalmente investirei per sempre ma ti dico quali sono solo dopo la sigla ciao bentornato sul canale io sono Pasquale questo è io risparmio il canale il tuo amichevole investitore e risparmiatore della Porta Accanto oggi parliamo di azioni e in particolare di tre aziende che a mio parere potrebbero essere definite come da cassettista ci tengo a precisare che queste sono solo delle mie valutazioni per quanto riguarda quelli in cui io personalmente andrei ad investire ma non sono assolutamente consigli finanziari ma semplicemente come un po' sempre degli spunti di riflessione poi ovviamente ognuno faccia i propri approfondimenti e le proprie valutazioni io si potrebbe dire vi dico dove sta l'interruttore poi sta a voi capire se conviene o meno accendere la luce andiamo a partire con la prima la Toronto Dominion Bank è una multinazionale canadese con sede proprio a Toronto e che fornisce vari prodotti e servizi finanziari sia in Canada che negli Stati Uniti d'America ma anche in alcuni casi a livello internazionale offre servizi bancari quotidiani finanziamenti alle imprese e persone fisiche e anche fa delle gestioni patrimoniali e assicurazioni oltre anche ad avere dei prodotti di investment banking nel 2021 era la più grande banca del Canada per un totale attivo e anche per capitalizzazione di mercato annoverandosi fra le prime 10 banche del Nord America e a livello mondiale ad essere la ventitresima più grande banca del mondo impiega più di 89.000 dipendenti e ha una clientiera che supera addirittura i 26 milioni di utenti a livello mondiale un po' di storia la Toronto Dominion Bank nasce nel 1955 dalla funzione della Bank of Toronto e dalla The Dominion Bank risalenti questi ultimi alla seconda metà del 1800 poi nel 1968 stringe una partnership con Chargex nota in seguito col nome di Visa pensa un po' e nel 1976 istituisce il suo primo sportello ATM il TD360 ribattezzato The Green Machine poi negli anni 90 va a crescere esponenzialmente con l'acquisizione di diverse attività finanziarie comprese le filiali commerciali della Standard Chartered Bank of Canada nel 2004 poi acquisisce la Bank North e nel 2010 la Riverside National Bank e il South Financial Group nel 2020 la Toronto Dominion Bank è coinvolta nell'amministrazione della compagnia aerea Virgin Australia Virgin? Massimo Cirignotta? Mr. Billion? Eh? la banca è particolarmente famosa per la propria attenzione al customer service quasi maniacale e alla valorizzazione dei propri clienti storici famosa infatti è la campagna di marketing TD Thanks You realizzata nel 2014 e indirizzata a 30.000 clienti che erano storici per la maggior parte dei casi è stato fatto un regalo di ringraziamento minimo e simbolico di 20 dollari nelle quattro filiali di Montreal, Vancouver, Toronto e Calgary sono stati installati dei speciali ATM, dei Bancomat speciali i dipendenti di queste filiali hanno poi selezionato alcuni clienti che secondo loro meritavano un riconoscimento speciale a quali è stato chiesto di recarsi in filiare perché erano stati selezionati per testare una nuova tipologia di ATM la sorpresa è che una volta davanti allo sportello automatico questo ha cominciato a parlare e a chiamare i clienti per nome alcuni clienti particolarmente meritevoli hanno addirittura ricevuto biglietti aerei giornate con il proprio eroe di baseball preferito insomma una gran bella campagna esiste addirittura un video su youtube su internet che ha più di 25 milioni di visualizzazioni relativa a questo regalo ma passiamo a parlare dei dati tecnici della Toronto Dominion Bank il suo return on equity è del 14,32% ha inoltre un price to earning ratio del 3.08 il che la fa essere particolarmente a buon mercato un'altra cosa che la fa sembrare particolarmente a un ottimo prezzo è il fatto che il suo forward pie ratio sia di 2,93 anche gli utili per azione, gli EPS sono cresciuti tantissimo quasi più del 47% nell'ultimo anno e comunque non si tratta di un evento isolato infatti se andiamo a guardare i 5 anni precedenti la crescita è stata di una media del 10,2% su base annua per un'azienda matura non è niente male se poi andiamo a guardare la crescita del dividendo questo cresce nella media del 6,3% su base annua e in ogni caso si tratta di un dividendo molto sostenibile avendo uno yield del 2,53% l'ordo e solo meno del 39% degli utili viene utilizzato per il pagamento dei dividendi questa è un'azienda che mi piace tantissimo per cui fatemi sapere se potrebbe interessare un video approfondito proprio su questa banca passiamo alla seconda azienda, azienda che ho avuto in portafoglio e che ha anche avuto una via analisi in passato un anno e mezzo fa parliamo di Target Corporation e vi lascerò il link da qualche parte del video che avevo realizzato all'epoca di nascita statunitense Target Corporation opera nel settore della grande distribuzione collocandosi all'ottavo posto nella classifica dei maggiori rivenditori a dettaglio degli Stati Uniti d'America fa parte inoltre del famosissimo Indice Regina degli Stati Uniti lo Standard & Poor's 500 cosa fanno? Si tratta di una catena di grandi magazzini con sede a Minneapolis l'azienda cosa va ad offrire? Assortimenti particolari di alimentari inclusi prodotti deperibili, prodotti alimentari secchi, prodotti lattiero, caseari e surgelati ma non solo, si parla anche di abbigliamento, di accessori, di prodotti per l'allenamento della casa di elettronica, di giocattoli, di prodotti per la bellezza e di articoli per la casa fornisce inoltre dei servizi aggiuntivi in negozio come il Target Café, il Target Optical, Starbucks e altre offerte di servizi che sono inerenti alla ristorazione era nata come un ramo della Dayton's Company, una compagnia di vendita a dettaglio fondata anche questa tanti anni fa, nel 1902 Target si espande a livello nazionale negli anni 80 fino ad arrivare al 2021 in cui gestisce 1926 negozi negli Stati Uniti d'America ed è classificata al 37esimo posto dell'elenco della Fortune 500, ha uno staff di 401.000 dipendenti alcuni store hanno anche delle farmacie e vendono dei prodotti come dicevamo prima di tipo alimentare Target per scelta non vende né sigarette e né tabacco dal 1996 hanno inoltre evitato la vendita di armi da fuoco inclusi anche i giocattoli di tipo realistico si distingue dai suoi rivali più acerrimi per la vendita di prodotti sì a un basso costo ma con un merchandise che ha diciamo quella cosa di trend infatti la sua clientela è per lo più giovane rispetto ad altri discount come possono essere ad esempio Walmart. Alcuni negozi in particolare quelli in prossimità dei principali aeroporti hanno un occhio di bue dipinto sul tetto che può essere visto dall'alto un'idea di marketing a mio parere molto geniale ma andiamo a parlare invece di dati tecnici anche qui il ROE è del 12,46% per cui un ottimo rendimento negli ultimi cinque anni gli utili per azione sono cresciuti anche in questo caso con numeri a doppia cifra quasi un 15% su base annua negli ultimi 15 anni e in ogni caso l'ultimo anno ha fornito uno stupendo più 54% di crescita su EPS. Una cosa molto interessante è che gli utili di Target stanno crescendo molto di più di quello che non sia il suo dividendo e per cui questo lo fa una azienda da distribuzione da dividendo molto sostenibile infatti meno del 22% dei propri utili viene distribuito sotto forma di dividendo anche se il suo dividend yield è in media col mercato non è niente di eccezionale ma comunque va a fornire un 1,6% di yield non enorme ma cresce comunque del 3,2% su base annua. Ultima azienda di queste tre è Home Depot uno dei venditori di articoli per la casa, prodotti per i prati e arredamento da giardino fornisce inoltre i programmi di installazione e manutenzione di tipo domestica per professionisti ma anche per persone che amano il file detail DIY, do it yourself come dicono gli inglesi come pavimenti, contosoffitti, sistemi di ventilazione nonché anche i noleggi di strumenti e attrezzature per appunto fare queste lavorazioni. Il suo target solitamente sono i proprietari delle case i ristrutturatori, i professionisti del settore come anche i gestori di proprietà e i lavoratori autonomi, i liberi professionisti come elettricisti o idraulici. La società gestisce 2.298 negozi distribuiti fra gli Stati Uniti ed il Canada e impiega più di 355.000 persone è stata costituita nel 1978, oh oh che bell'anno l'anno in cui sono nato io, e ha sede in Atlanta in Georgia. Nel 2006 Home Depot deteneva il titolo di più grande distributore di prodotti per la casa degli Stati Uniti davanti al rivale, proceduto solamente da Walmart. Pur avendo avuto a lungo Walmart nel mio portafoglio, ad essere sincero e realistico preferisco molto di più Home Depot, perché pur essendo in forte competizione anche se non diretta perché ha un settore molto più specifico di Home Depot, dal punto di vista del settore di mercato, sicuramente Home Depot riesce ad avere un maggiore mot, se così lo possiamo definire, o come lo definirebbe Warren Buffett. Tecnicamente come azienda com'è però? Il suo profit margin è quasi dell'11%, cifra molto interessante a mio parere, così come il suo ROI, il return on asset che supera il 22%. La crescita degli utili per un'azienda matura come questa è di più del 17% su base annua se si guardano gli ultimi 5 anni appena passati, mentre nell'ultimo anno appena concluso è andata vicino a un più 30% di utili per azione. Questi sono comunque previsti crescere ulteriormente per altri 5 anni intorno al 17% di media annuale. Anche in questo caso come target dividendo molto sostenibile con meno del 49% degli utili che vengono spesi per la distribuzione, con un dividendo che cresce di circa il 19% su base annua. Anche se, come per target, si tratta di un yield di media con il mercato americano di un 1,9%. Ovviamente se si pensa ad aziende da tenere quasi per sempre, non si può andare a cercare delle soluzioni che diranno dei rendimenti eccezionalmente ampi e succosi su base annua, ma bisogna secondo me orientarsi su aziende che siano stabili, che continuino a crescere e per le quali io penso che ci sia ancora possibilità di non essere nella fase di maturazione del business. Queste tre aziende, secondo il mio modesto parere, sono aziende che in un modo o nell'altro trovano nuovi spunti per alimentare i propri fatturati, i propri utili e comunque fornire ai propri investitori un dividendo costantemente in crescita e comunque costantemente pagato. Fammi sapere cosa ne pensi di queste tre aziende, se le avevi in portafoglio, se le hai in portafoglio, se le avevi in watchlist o se le hai in watchlist e se sono degli spunti nuovi magari che non avevi mai valutato. Come sempre se il video è stato di tuo gradimento ti prego di farmelo capire, magari cliccando quel cosino che sembra un pollice in su, che in effetti è un pollice in su, oppure se sei nuovo al canale di iscriverti e cliccare la campanella delle notifiche per essere sempre aggiornato su ogni mio nuovo video. Bene, anche per oggi è tutto e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!